Gentili telespettatori, buona giornata. È cominciata ormai alla grande, tra virgolette, la delazione nei riguardi di Fratelli d'Italia della sua presidente. Si sta riproponendo esattamente quello che è successo a Berlusconi, poi a Salvini e oggi è a Giorgia Meloni. Manca qualcosa ancora per Giorgia Meloni, la magistratura. E Crosetto da tempo dice attenzione, presto arriverà la magistratura, molto presto, da settembre in poi. La magistratura dice Crosetto non agisce d'estate, c'è maggior visibilità quando finisce l'estate, quando si arriva nel pieno della campagna elettorale, arriverà anche lei come arrivata per Berlusconi e per Salvini. Motivi? Ci saranno motivi, poi dopo qualche anno diranno il fatto non sussiste. Però tra l'inizio e il fatto non sussiste c'è in mezzo tutto un attacco che è fatto apto per togliere voti a un partito. Per Crosetto è sicuro che arriverà la magistratura, mentre si sono già mossi tutti i vari personaggi da professori universitari, giornalisti, pseudo giornalisti, scrittori. Tutto il mondo della sinistra si è già mobilitato contro la presidente di Fratelli d'Italia con la solita propaganda del fascismo, l'attacco è sempre lo stesso. È il copione che è stato fatto per Berlusconi e poi Salvini. Berlusconi lo definivano, lo paragonavano a Mussolini, ve lo ricordate, anche fisicamente, ci assomigliano. Lo hanno chiamato per tanti anni il Cavaliere Nero e oggi è un signore che è lì, che gestisce Forza Italia al 7%. E dove era sto Cavaliere Nero? Niente, era solo nelle fantasie della sinistra. Poi è arrivato Salvini, insomma, adesso si è sgonfiata anche contro Salvini e partono in grande stile contro Fratelli d'Italia perché è il primo partito italiano e questa volta è un vero partito di destra. Forza Italia non era un partito di destra, ma neanche la Lega, dai, la Lega non è un partito, non lo so. Sì, io avrei delle definizioni sulla Lega, però le tengo per me. Diciamo che non è un partito classificabile né nel centro-destra né nel centro-sinistra, per me è un'altra cosa, però ognuno poi ha le sue opinioni personali. Questa è un'opinione personale, non ve la dico perché no. Intanto l'Italia è un paese di delatori, è un paese che fa le liste di proscrizione. Abbiamo visto i simpatizzanti di Putin, dove il Corriere della Sera dicono ci abbia aggiunto sei nomi, giusto per fare la lista dei nemici, ma non, dei nemici del governo. Ecco, questa era la lista dei nemici del governo. E poi abbiamo adesso l'Europa che fa la lista dei cattivi, dove nella lista dei cattivi, di quelli da avere timore, c'è anche la Lega e i fratelli d'Italia. Quindi la lista di partiti che possono minacciare la democrazia del partito in cui si muovono e anche la democrazia europea. Quindi già dall'Europa arriva un'attenzione, attenzione a Giorgia Meloni. Ve l'avevo detto anche, comunicato anche in un video forse di questa mattina. Quindi viene accomunata la Lega e i fratelli d'Italia vengono accomunati a partiti come Forza Nuova, per esempio, e addirittura viene elogiato Santori come ex capo delle Sardine che contrastavano questa deriva populista e questa deriva di estrema destra, anche se poi vi dico né Lega né fratelli d'Italia sono realmente dei partiti di estrema destra. La Lega è un'altra cosa, mentre fratelli d'Italia non è un partito di estrema destra, è un partito di destra. Poiché in Europa si chiamino conservatori e in Italia si insiste sul destra perché serve per la propaganda, comunque sia è quell'area politica, la destra, la destra. Vera e propria destra come c'è una vera e propria sinistra, in Italia c'è una vera e propria destra. Quei centrodestra e centrosinistra sono delle destre e delle sinistre anacquate. Però in questi giorni è partito proprio l'attacco a Giorgia Meloni perché? Perché alle amministrative si è visto che ha soppiantato anche la Lega al nord Italia e pertanto ufficialmente dopo queste amministrative Fratelli d'Italia è alla guida del centrodestra ed è il primo partito italiano. Ormai il PD è distaccato in un sondaggio ieri, il PD veniva dato al 19, 19, 20, 21, 22, oltre tre punti percentuali a Fratelli d'Italia sul PD, per non parlare della Lega che è data addirittura al 14,8 in un sondaggio di oggi, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. La Lega diciamo che è tra i 7 e l'8% indietro dal primo partito italiano. Ecco, tra meno di un anno si vota e la campagna elettorale è assolutamente nel pieno dell'attacco verso gli avversari politici che in mancanza di argomenti diventano dei nemici. Quando c'è una sinistra che ha corto di argomenti e parla solo di Jussoli e di DL Zan da mesi che ripete sempre le stesse cose e non ha proposte per l'economia, non ha proposte per nulla, rimane per contrastare il centrodestra rimane questo modus operandi di trasformare l'avversario politico in un nemico da distruggere diciamo con qualsiasi mezzo. Gli aiutini sono benvenuti, la sinistra sa che gli aiutini sono benvenuti ed è per questo che diceva no alla riforma della giustizia, quella dei referendum, perché il PD, la sinistra, il centrosinistra, i regalini non si rifiutano mai, si dice i regali non si rifiutano, a cavallo donato non si guarda in bocca, arriva un regalo inaspettato. Poi se questi regali dovessero finire insomma comincia a diventare anche un problemuccio per loro, dover far fronte da soli al problema centrodestra. Pertanto poi nei prossimi video vi racconterò meglio quello che sta succedendo intorno a Fratelli d'Italia. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.